Buonasera a tutti, grazie a Tiberi, a Belvedere Ostrans e per Steletocco. Buonasera a tutti, grazie a Tiberi, a Belvedere Ostrans e per Steletocco. Salutiamo, salutiamo, Filipponi perché vi siete ingrossati, prima eravamo Filipponi. No, Filippini, prima eravamo Filipponi, per vedere Ostrans, non si sente bene perché c'è troppa musica, aspetti, andiamo di qua, mi seguo. Sì, 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 aspetta che... Cosa c'è? Vabbè, no, c'era... Oh, devo andare su un aio, eh? Aspetta. Ciao, saluta Teletocco, salutate Teletocco, salutate Teletocco. Mi fate un saluto tutti insieme per Teletocco. Così, guarda, guarda a me, guarda a me. Ciao, Teletocco, Teletocco. Teletocco, non so, è paura. Quanto è? Cinque. Vabbè, non è buono. No, no, ce l'ho. Guarda, non ce l'ho. Tanto, la terapia è lunga, non ritorno. Vado a farmi la doccia di också. Tanto. Tanto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.